Presidente Pongiglione, quest'anno la serata inaugurale del Salone Nautico di Genova è dedicata per la prima volta all'Istituto Gasilini. È la prima volta anche per me quest'anno e mi fa molto piacere che ci sia una prima volta comune fra due eccellenze genovesi. Il Salone Nautico ha 55 anni ed è una vera eccellenza genovese che proprio ci fa conoscere in tutto il mondo. Il Gasilini ha qualche anno di più, ma non tantissimi di più, ed è un'ulteriore eccellenza genovese, nazionale ed internazionale. Per cui io spero che sia il primo di tantissimi altri anni nei quali ci sarà uno sposalizio Gasilini, Salone Nautico. In che modo i fondi raccolti con questa serata benefica andranno a sostenere l'ospedale Gasilini? L'ospedale Gasilini ha la sua forza e la sua conoscenza nel mondo perché fa ricerca. Quindi questi fondi saranno destinati alla ricerca e vorrei dire anche ai ricercatori, perché la ricerca senza ricercatori non va da nessuna parte. E quindi credo che senz'altro, sperando che siano fondi consistenti, si possa dare veramente un impulso nuovo fin da subito a questa importantissima nostra caratteristica. Grazie.